Sì, i cittadini stanno già pagandola e avranno notato, almeno i più attenti, che c'è una piccola riduzione, intorno al 4%, 3 alle utenze domestiche, 4 agli esercizi commerciali e alle attività artigianali, industriali. È un modo di dimostrare che la raccolta differenziata non è un costo, cioè non aumenta necessariamente il costo del ciclo dei rifiuti, anche se non è l'aspetto centrale, dato che noi la facciamo soprattutto per avere un ciclo dei rifiuti più salubre, insomma, è una cosa che conviene a un grande ritorno nelle nostre vite, che ce ne rendiamo conto o meno e quindi per questo la facciamo. È importante che costi sempre meno e non abbiamo una dimensione di servizi che si aggiungono anche nel 2017, più spaziamento nei quartieri, abbiamo annunciato un'estensione significativa delle zone in cui raccogliamo la notte, anziché di giorno e questo rientra però sempre in quell'ambito tarifario complessivo che si riduce un poco nel 2017. Tenete presente che noi paghiamo nel 2017 un conguaglio di abbandono dei rifiuti residui nel 2016 che è molto significativo e si può collegare soltanto al fatto che passiamo nel 2016 tutta la città, la differenziata, quindi con abbandoni consistenti per chi non riusciva ad abituarsi e la cosa dovrebbe naturalmente essere diversa nel 2017. Abbiamo visto qualche esempio abbastanza brutto di cosa succede a volte con i cassionetti così di intelligenti e del perché la raccolta di differenze da porta a porta è importante e funziona. Al di là delle polemiche, hai detto che dal punto di vista politico e dal punto di vista delle scelte questa cosa sta pagando, i cittadini, benché qualche mugugno sia inevitabile e qualche disagio sia inevitabile, hanno risposto bene alla porta a porta e la porta a porta funziona. Sì, cioè dal punto di vista dei risultati dobbiamo soltanto ringraziare i cittadini ma tutto sommato direi anche l'operatore a Camambiente che tra mille difficoltà ha retto il colpo perché il risultato finale, c'è questo indice di riciclaggio di Regione Liguria che lo certifica, è ottimo a Spezzi, quindi la fanno quasi tutti. Certo che avremmo bisogno di più risorse, ovvero di nuovi mezzi per ampliare la raccolta di un singolo segmento di differenziata in una macrozona e rendere tutto più semplice, avremo bisogno anche di più operatori sostanzialmente. Questo è un po' il senso dell'operazione aggregativa che coinvolge a Cam, c'è l'Assemblea dei Soci questa mattina alle 12 e che effettivamente risponde oltre che al problema finanziario di 182 bis alla crisi dell'azienda, anche alla nostra esigenza di avere investimenti che non ricadano immediatamente in Tari, Tari che abbiamo detto cerchiamo di ridurre anno per anno anziché di aumentare. Quindi ci vogliono più spalle e io aspetto con grande ansia che si sappia l'esito anche di questa prima raccolta di lettere di interesse perché l'aggregazione di H ma è fondamentale anche fino al ciclo dei rifiuti. Però detto questo, come riassumeva lei, io mi porto questa croce fino in fondo nel senso che mi sono convinto, risultati alla mano, che questa modalità di raccolta funzioni e dubito che mettere di nuovo i cassonetti per strada, sia pure differenziati per tipologia di rifiuto, confidando che le persone rispettino le differenze eccetera eccetera, cambi granché. Comunque non cambierebbe nelle case, se dovesse funzionare quel sistema, nelle case non cambierebbe. Cambierebbe che avremo di nuovo delle stecche di cassonetti dove chiunque vuole abbandonare i rifiuti lascia e poi abbiamo differenziato l'indifferenziato che sale, il differenziato che scende, facciamo una gran fatica per nulla. Certo ci vogliono più mezzi, più persone perché dobbiamo ridurre i disservizi alle incertezze del nostro servizio a tendente zero, di modo che chiunque la faccia abbia la fatica il minore possibile. Grazie Assessore.